Oggi a News Hour, presentata a Foggia la sesta edizione dell'Effoggia Film Festival, l'assessore alla cultura Anna Paola Giuliani ci presenta l'evento. La guerra Europa-Italia continua, dopo il vetro sul bilancio europeo ora è la manovra finanziaria nel mirino europeista. Partita alla scuola media Pavoncelli di Cirignola, una tre giorni dedicata al progetto per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, intervento dell'ispettrice capo della polizia Angela Di Ruppio. Turno impres settimanale per il campionato di basket Serie C Silver, la capolista castellana Ulas ospite il Manopoli, intervista al coce biancazzurro Gigi Marinelli.